Ristorante Marchi. Qualità e professionalità al vostro servizio. Ristorante Marchi è nel cuore della Franciacorta, terra ricca di fascino e di storia. Al Ristorante Marchi troverai un ambiente confortevole, ideale per trascorrere piacevoli ore in compagnia degli amici e della buona tavola. Ristorante Marchi è specializzato nell'organizzazione di ricevimenti e cerimonie, come pranzi di battesimo, comunioni, cresime, matrimoni, grazie anche alla caratteristica taverna e agli ampi saloni capaci di ospitare fino a 300 persone. Al Ristorante Marchi troverai piatti dal sapore unico ed inimitabile, preparati secondo le ricette della cucina locale e nazionale, pietanze che saranno accompagnate sulla tavola dall'ottimo vino locale prodotto nelle terre della Franciacorta. Disponiamo poi di un ampio parcheggio esterno. Ristorante Marchi applica prezzi particolari per comitive e pranzi di lavoro. Autore dei sottotitoli a cura di QTSS